Andiamo! Grazie a tutti! Juventus Football Puppe! Juventus! Alenatore Massimiliano! Mariena è numero 23... Voice! Numero 4... Medi! Numero 5... Miren! Mariena è numero 9... Gonzalo! Di Marini! Numero 11... Dulas! Costa! Bles! Alcuni! Numero 17... Mario! Alcuni! Numero 22... Quattro! Numero 24... Daniele! Lugani! Numero 26... Stefano! Ricciare! Numero 27... Stefano! Numero 27... Numero 27... Numero 27... Come si sa ne. Come si sa ne. Nino 28... Non vogliamo questa victoria! Non vogliamo questa victoria! Non vogliamo questa victoria! Genso! 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 Genso la culpa! Genso la culpa! E' una cosa, ha segnato il numero 9, Gonzalo, 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 Gonzalo. Siamo venuti qui, siamo venuti qui, per vedere se ne ha i cuori. Siamo venuti qui, siamo venuti qui, per vedere se ne ha i cuori. Poni Marta è sempre un rip al pastore. Ciao da bacano, todo il minuto. Grazie a tutti i nostri amici! Grazie a tutti! Grazie a tutti!